Scongiurato l'abbattimento delle case a Brecciarola, adesso si sta lavorando invece su quale altro fronte? Innanzitutto su Brecciarola abbiamo messo in campo tutti i provvedimenti possibili, anche una delibera di Consiglio Comunale votata in unanimità, prodotta dalla Commissione Speciale proprio per il doppio della ferrovia, da me presieduta, che però è trasversale e rappresenta tutto il Consiglio Comunale senza colorazione politica. L'abbiamo scongiurato perché abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per bloccare la conferenza di servizi per quello che riguarda il lotto 1, che è il lotto PNRR, che passa da Brecciarola e si conclude a Manopello. Quindi abbiamo poi presentato una variante, che viene detta variante dei cittadini, variante plus, che sostanzialmente bypassa Brecciarola. Ora stiamo con la Commissione elaborando tutte le condizioni necessarie per scongiurare tutte le situazioni negative su chi di scalo, quindi da San Martino a Brecciarola, quindi il tratto che passa proprio nel centro di chi di scalo. I comitati però dal canto loro, in particolare per voce della Presidente Paola Sablone, continuano a dire no a questa variante. Certo, dal punto di vista dei comitati io non li condivido né li ostacolo. Se invece dobbiamo essere realistici e dobbiamo comportarci da amministratori, dobbiamo dire che dobbiamo ottenere la possibilità di avere questo progetto per la città in una posizione che non dia fastidio alla città stessa. Quindi il problema non è non farlo, ma farlo bene.